Che impressione hai di questa Napoli, Tiziano? Ecco, ti pregherei però non tutto questo entusiasmo, perché sennò poi la gente mi cade alla poltrona. Di cadere alla poltrona devi ravvivarla, se la gente cade alla poltrona. Sembra di stare monumentale. Cioè, è sonnolenta questa transitione. Sembra di stare monumentale qua. È sonnolenta. Chiediti perché. Cioè, chiediti appunto, chiediti perché è sonnolenta. Non saprei. E non lo so, vedi un po' tu. E ora è matata. E vai. E vai. E vai. E mo voglio vedere mo. E mo voglio vedere. Mamma mia. Bello questo aggancio. Fantastico. Bello, bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Guarda che ha segnato. Asic. E vai. E vai. E l'ho difeso. Mi ha sentito. Mi ha sentito. Ma questa ti ha sentito. Mi ha sentito. Grande. Bravo, bravo. Esatto. E aggancio. E aggancio. Bello. 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 Sì, sì. Napoli è avanti. 1-0. E ci ho fatto pure il Vesuvio. Cazzarola. Cazzarola. Ma come si fa a lasciarlo lì solo, solo, solo. Ma come si fa? Siamo peggio del Miram. Ai 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 ai. Brute notizie per il Napoli. Ha pareggiato l'Atletico Bilbao. Ma che dormita difensiva. Mimmo. Che c'è. Pazzesco. Guarda. È incredibile quello che riusciamo a combinare sui calci piazzati. Siamo veramente... Se si può marcare un uomo c'è uno lì. È crudetto. Oh no. Ai 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 ai. Cosa ha combinato Raffaele? Cosa ha combinato Raffaele? Che pasticcio di Raffaele. Oh no. È beccato con la sua posizione. Non l'ho visto. Cosa ha fatto Raffaele ragazzi? Cosa ha fatto? Descrivi. Eccoci qui. Come vedete è 3-1 per l'Atletic Bilbao. E adesso la cosa si fa veramente, veramente difficile, drammatica. Quasi impossibile. Praticamente impossibile. Secondo gol preso in contropiede. In trasferta prendi gol in contropiede. Sembra un paradosso. Cioè quello che dovevamo fare noi praticamente. Esatto. Cioè innescare i contropiedi, essere veloci, sfruttare gli spazi. Cioè lo stanno facendo loro al posto nostro. Cioè io guarda non... Beh diciamo che comunque la chiave è stato quell'errore difensivo sul secondo gol. Ha tagliato un po' le gambe ai giocatori. Eh sì. Eh sì. La mia vita. Ma la pazza con l'ussellato, Lamborghini con l'ussellato. Reggi petticini, musicati, jeans a buffare. Forse cazzo mi in allarme per sta vita malare. La fa una frisca accattata. A mattina può dormire, a notte sta inserare. Che è successo a chi l'amico che la vuoto l'hanno abbucato? O ha domesticato? A retromarci fa rumore, attire l'attenzione. Spazza l'attenzione. Conviede funzioni a bruciare. E viaggi tutti guardi. Pierda che avevoci lì. Quando ta...